ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video un'altra puntatella dedicata a voi che state guardando le vostre collezioni di orologi come ogni tanto capita ci divertiamo a guardare cosa ci mandate perché voi volete partecipare volete essere giustamente protagonisti e volete togliervi lo sfizio di far vedere agli altri a me più che altro ma non sono io che comando è perché possono i commenti sotto al video che ci dicono qualcosa anche sulla vostra collezione no danno i loro piccoli giudizi nel loro piccolo come io lo do nel mio che poi non contiamo niente ognuno faccia quello che vuole le collezioni sono tutte rispettabili chiaramente io mi permetto di scherzare e di dare dei giudizi anche tranchant a volte no ma che ce frega cioè diciamo pane pane al vino al vino come uno la pensa poi non vuol dire niente non dovete offendervi da anche oggi un quattro video ne metto quattro così per fare un po una media di tempo più o meno non mandate le lunghi video come partecipare lo sapete cercate di non mandarli troppo lunghi perché non scartato anche un altro in questa fase qua era 11 12 13 no non c'è la possibilità a volte faccio vedere quando li scartono faccio vedere in modo che uno si renda conto anche degli errori che ha commesso anche gli altri e che si renda conto che il suo video non è stato pubblicato alla possibilità di rifarlo no altre volte proprio ci passo il mouse sopra anzi faccio la cartella in qui sono ordina per tempo per durata mi trovo tutte tutte le durate sulla destra con le iconcine non vedo il video le iconcine un minuto 4 5 fino arrivare in fondo 9 9 10 13 14 14 via non so nemmeno cosa c'è dentro quindi cercate di essere corti non cortissimi ma corti detto questo vi mostro l'orologio del giorno che questo bellissimo omega c master professional 300 il diver di casa omega quadrante in ceramica anzi ossido di zirconio quadrante in ossido di zirconio che poi è un tipo di ceramica ghiera in ceramica ma luccicantissimo l'unico punto debolino che magari un po pesantino però questo è un orologio estivo io ora lo sto indossando in inverno così per sfizio no perché fa perché ogni tanto vanno indossati però il suo il suo bello d'estate quando deve mostrarsi in tutta la sua bellezza bello 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 ci piace tanto ci piace tanto dai bando discorsi inutili guardiamo un po qua il mio dispositivo a batteria digitale che però a batteria però intanto è collegato alla rete perché la batteria mi tradisce capito tradisce la batteria è tua nemica infingarda fuoco ciao davide sono ciao da roma il creatore del mitico orologio time counters bravo questo credo sia il settimo video che io ti invio quindi a questo punto sono credo di essere il secondo partner ufficiale del canale allora sei simpaticissimo allora tra l'altro poi nei commenti sotto il video questo qua aveva fatto un si è fatto fare un orologio da aliexpress chiaramente no un orologiaccio con la scritta time counters cioè contatori del tempo no l'ho ordinato così poi nei commenti sotto il video ha ha detto anche qual è l'azienda che glielo ha fatto tandorio hai capito la tanto rinomata tandorio che molti portano come esempio sono case che fanno gli orologi su ordinazione ci vuoi ci vuoi scritto sopra gigetto locutro gigetto locutro e loro ti ci scrivono gigetto locutro fammene venti venti gigetto locutro poi li vendi capito sono proprio veramente roba da da schicis hai capito e poi tutti a comprare quegli orologi lì che non che 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 emozioni ti dà un orologio del genere rapidamente ti aggiungo sullo stato del mio orologio e comincio da questo splendido reverso della gege le cutre due face tribute bello questo è il quadrante blu soleil che bello si vede proprio il pregio è il quadrante guarda lì oppa la questo è l'altrettanto splendido colore bianco del quadrante questo quadrante consente di mettere un secondo fuso certo due attraverso questa levetta che chiaramente consente di spostare l'ora questo orologio monta un calibro 854 a 21 mila 600 alternanze una riserva di carica di 42 ore un orologio veramente tanto sognato che ho avuto la fortuna questo natale di potermi regalare come dire cioè 21 mila 600 alternanze ora vedete che anche l'alta orologeria nella quale gigetto la possiamo anche inserire no usano anche anche loro alternanze non elevate questi qua sono 3,5 hertz no se non mi sbaglio si tre 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 addirittura 3 hertz 21 mila 600 sono veramente poche tutti vogliono alta frequenza alta frequenza poi le grandi case vanno utilizzare la bassa tra virgolette frequenza 21 mila 600 come dire non sono certi dati anche la riserva di carica 40 ore cioè confronto a certi orologi che fanno oggi chiunque che ha tre giorni di otto giorni di riserva di carica dieci giorni di riserva di carica no poi c'è un signor marchio che fa orologi come si deve 40 ore di riserva di carica 21 mila 600 alternanze orari understatement ma orologi che passo poi al secondo orologio ovvero a un breguet ero navale del 1991 quadrante splendido indice altrizio cronografo con funzione flyback questo orologio monta un calibro 582 che deriva presente da un le mania 13 50 spesso pare che spesso la particolarità di questo orologio anche la sua storia questo orologio nasce nel 1950 quando il ministero della difesa francese commissiona appunto la breguet per la produzione di un cronografo per le le forze aeree e quelle aereo navali la la peculiarità è che il questo orologio si chiamerà tip 20 per il tip xx sarà prodotto la breguet successivamente e sarebbe la versione civile di quella militare ma la cosa interessante è che la il governo francese all'epoca lo dava come dotazione appunto alle forze militari e una volta appunto terminata l'attività militare chiaramente non li lasciavano ai piloti tranne che in casi eccezionali a un orloggio veramente splendido revisionato coevo coevo bello quello mi piace in tutte le sue parti yes condizioni davvero eccezionali 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 allora ora te hai detto tip 20 no mi è venuto il dubbio io ho sempre chiamato type 20 in inglese perché c'è la y t y p e type 20 se mi dici tip 20 non so se sbaglio io se sbagli te lo dici magari la francese esiste tip 20 non so se qualcuno sa come si pronuncia type 20 mi viene da pronunciarlo l'inglese concludo facendo di vedere l'orologio sotto il polsino che l'altra volta provata di indovinare non è un zenita il primero ma è un semplice pensate emilton che che aviation pioneer bello sempre un bel orologio lo recensito anch'io bello bello a questo punto ti faccio anche vedere l'orologio goffia sull'altro polso ovvero un iwc acquatanger bravo orologio anche questo splendido ciao poveri allora caro davide io avrei concluso però ma ti faccio i miei migliori auguri di serene festività e a tutti gli amici del canale sono finite love and peace love and peace ciao 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 a tutti a fare gli auguri perché li hanno fatti prima di natale ma non ci arrivate che la distanza di pubblicazione è uno due mesi no dopo ci troviamo a pasqua con gli auguri di natale e così via va bene cosa dire settima volta io sinceramente le sette volte non me le ricordo mi ricordo l'altra volta che ho notato che sotto il polsino avevi l'orologio di tu lo zenite primero mi sembrava l'anza dritta quella invece è il nostro amico kaki pioneer pilot bello che ho recensito anch'io bene 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 tutti i belli orologi cosa ti può dire i fussi e gg le cutre e cosa ti si può dire a te niente c'hai c'hai gli orologi tutti belli 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 come si suol dire bravo sei promosso ciao davide ciao alberto dalla provincia di verona verona e volevo farti vedere la mia piccola collezione senza mangiarmi troppo in tanti discorsi perché anche a me le esposizioni troppo lunghe non mi stufano non mi piacciono bravo parto col primo questo è il regalo di comunione di mio nonno ha un valore affettivo e anche una bella storia nel senso che rimasto nel cassetto per una ventina d'anni e poi ho deciso di riprenderlo in mano dagli una pulita veloce dentro cambiargli la batteria ed è ripartito fai da di non lo uso tanto però ha un valore affettivo immenso e immagino passiamo al prossimo un altro quarzo della mia collezione è questo citizen ecodrive sappiamo già tutto nel senso niente di nuovo a me piace tanto quindi è stato un bel acchiappo da un venditore insomma privato lo vendeva a pochi euro funziona benissimo tieni il tempo e ogni tanto lo metto anche questo contento te poi passiamo al l'unico vintage della mia collezione che è questo green cell è bello questa sette rubini proprio a movimento peso peso e 35 mm quadrante color cioccolato che a certi riflessi in certe angolazioni sembra quasi grigio però devo dire che è molto molto particolare come quadrante ora molti di voi non avranno mai sentito dire peso il calibri peso era una azienda che esisteva che poi è stata assorbita da eta c'è stato un periodo se voi date anche su su wiki watch ci sono noi i siti dove spiegano la storia dell'oroggeria vedrete che c'erano un sacco di mini manifatture di calibri o di ebosh cioè di parti grezze in svizzera no e poi a un certo punto hanno capito cioè hanno capito il mercato gli ha fatto capire che da sole non potevano andare avanti tutta questa miriade di micro aziende aveva un senso fino a un certo punto poi l'economia globale ha portato a riunirsi tutta la maggior parte non tutta la maggior parte sotto un unico un'unica azienda poi ne hanno assorbite altre altre ad esempio il peso 7001 altri non è che poi l'unitas dell'eta che anche va giù era per esempio una una manufattura parte che poi è stata assorbita da eta perché diciamo diciamo sempre vai giù 77 50 eta 77 50 perché era prima va giù poi è stata assorbita è diventato eta 77 50 ma sempre quella la base per dire no molte case sono confluite in età molto sottile carica manuale anche questo volevo un vintage più che altro per scrupolo così per così per per dire anche un vintage in in collezione lo metto ogni tanto è l'unico che a volte lo presto a mia moglie che lei non è appassionata di orologi ma un po la volta anche grazie ai tuoi video forse riuscirà anche lei speriamo non si appassioni a me perché sennò passo al prossimo orient re i2 bellino visto rivisto tritto di tritto questo è stato il mio primo automatico ma ho deciso che il suo barciale mi aveva stufato ci ha montato questo è un aftermarket marchiato seiko però insomma mi piace mi piace forse di più dell'altro bracciale anche perché questo da 22 era estrema fino a 20 quindi un attimino più portabile penso che che si dia meglio anche con l'orologio ci voleva tanto a dirlo bravo il russo della mia collezione immancabile come dici sempre tu senza finestra data così bravo non c'è da diventare matti questo è venuto con me in tutte le situazioni più più avventurose diciamo così dalla montagna sotto la neve a quest'anno quest'anno in vacanza a charm le situazioni più pericolose in vacanza a charm e shake ma se vi sentono quelli che fa veramente fanno le cose pericolose si mettono a ridere la situazione più pericolosa in vacanza a charm e shake scappellotto qua dietro e zitto no ma dai benissimo molto molto performante anche il movimento addirittura ok stiamo parlando di un orologio dal poco valore economico certo però davvero tiene tiene il tempo davvero bene e mi piace tanto e vabbè poi poi avanti questo classico visto trito ritrito però cosa devo dirti è vero che l'abbiamo visto tutte le salse però io l'ho preso due anni fa a 90 euro e adesso si trova a 180 190 gli orologi aumentano tutti no perché noi ci colpiscono quando aumenta seico allora ci colpisce quando aumenta l'onjin ci colpisce no magari anche perché repentinamente ma in due anni un secolo 5 è passato dai 90 ai 180 no ora si fa sempre parte di secolo vabbè però il secolo 5 erano quelli proprio quelli economici cazzo anche nella parte economica c'è stato un aumento incredibile è raddoppiato in tutte le case aumentano c'è poco da stare a non sono pezzi di pane questi cioè è lusso capito anche una spesa di 100 euro per un secolo 5 è un lusso è un qualcosa che non ti serve di cui non hai bisogno quindi non dobbiamo non possiamo scendere in piazza a lamentarci gli orologi costano troppo facciamo un'interrogazione parlamentare andiamo a fare lasciamo che si lamentino giustamente coloro i quali se aumenta il pane se aumenta la benzina che sono tutti i beni primari che ci servono la vita quotidiana ma gli orologi si aumentano ci metto di più a comprare ma lo lascio lì in vetrina non mi interessa ok ci mettevo dieci mesi a risparmiare per comprare ora ce ne metto quindici ne prendo uno di meno peggio per loro ma è inutile lamentarsi cioè lamentarsi rimangono lì sono contento sempre di più di averlo preso perché è stupendo 30 millimetri mi piace davvero tanto gli ultimi due l'altro seiko 5 military questo è il mio orologio d'ufficio diciamo così field watch ma io lo considero un orologio d'ufficio così col bracciale va bene sia in una situazione un più formale che un po più casual leggibilità ottima finestra dei date che che non mi disturba anzi è caratteristica dei seiko e questo è mi piace tanto anche questo e l'ultimo adesso te verrà da ridere perché per me è quello più importante della collezione per te forse nella tua collezione è uno dei più degli ultimi per importanza e questo è xx 007 al quale ho voluto fare una modifica o topino questo bracciale ex ad da strap code mamma mia maglie piene finali pieni devo dire che ci sta da dio perché nonostante sia comunque si faccia sentire a una bellissima vestibilità e poi comunque lo cercavo anche questo che la stremasse tanto questo addirittura da 22 passa a 18 mm alla clasp però finali pieni tutto pieno insomma mi piace davvero tanto e l'ex che ix per me attualmente l'orologio di maggior prezzo nella mia collezione ecco davide questa è la mia umidissima collezione e niente niente di particolare da segnalare spero che non ci sia ancio feche però insomma niente volevo condividere con te un mio pensiero il mio prossimo quando sarà se sarà vorrei fare un acchiappo di un cronografo il mio sogno è ovviamente lo speed master moon watch davvero è il mio sogno però ti devo dire che non l'ho visto nel tuo canale e meglio l'ho visto poche volte mi piacerebbe vedere anche la tua recensione perché davvero sarebbe interessante la reedizione del nivada crono master sia vietor per me quello è 38 mm particolare con le sfere brodaro no data b compax per me quello è il cronografo da prendere ecco secondo me almeno secondo il mio gusto è davvero bello ecco non ti rubo altro tempo ti ringrazio per il dedicato saluto tutti e ciao love ciao 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 love se non sbaglio il nivada quello lì che intendi te quello con la sfera ore corta e freccia è vero se non mi sbaglio si è bello se ti piace se sei così entusiasta non hai bisogno di una recensione cioè non c'è bisogno quando uno è così portato verso un orologio vuol dire che lo vuole e si deve lanciare cioè poi dopo c'è c'è anche un un bias comportamentale cioè quando uno è convinto di una cosa cerca di guardare di vedere nelle informazioni che gli arrivano tutte quelle solamente quelle informazioni che poi confermano la sua idea cercano di confermare la sua idea è capito c'è questo questa deviazione comportamentale che ti porta a pensare che a mettere in risalto le informazioni che cercano di confermare il tuo persino rispetto a quelle contrarie quindi anche una recensione che se facessi una recensione con dei punti negativi di quei punti negativi non li vedi perché ti guardi solo quelli positivi perché sei coinvolto da questo orologio quindi devi prenderlo cioè non è inutile stare a tentennare ti piace poi dopo se ti penti un giorno è un altro discorso le cose vanno fatte poi per il resto questo la collezione è sì è semplice no tutti i orologi economici però serve come esempio per far vedere che ci si può divertire si possono collezionare orologi senza bisogno di spendere dei gran soldoni piano piano con pochi sforzi economici si riesce ad avere una collezione decente nella quale ti ci riconosci soprattutto e con la quale ti diverti dai bravo complimenti ciao davide buonasera sera sono antonio non mi reputo un collezionista ma probabilmente un appassionato da sempre partiamo dai miei orologi di vent'anni fa fondamentalmente anche 25 30 anni fa 30 va quello più vecchio uno swatch un ironi credo che si chiamassero questo lo utilizzo tuttora quando devo fare dei lavori di manovalanza dove c'è il rischio di rovinare quindi vabbè insomma vado veloce perché sono orologi velocissimo come anche questo sempre di quell'epoca utilizzato forse ancora di più da mio padre che forse l'ha rovinato ancora qualcosina di più eh vabbè diamo oltre vai e adesso velocissimo sono un ducatista quindi l'orologio è molto brutto però mi era piaciuta l'idea di avere un orologio marchiato ducati eh vabbè praticamente non l'ho mai messo ti capisco e abbiamo anche un un sector sempre a batteria come li chiami tu batterie con due b non mi dispiace il quadrante magari un domani riuscirò a trovare qualcosa di meccanico con un'estetica similare ma si e consuma l'inverosimile perché una batteria dura un mese sì e no la batteria che dura un mese vedi che è in fingarda io l'ho sempre detto ma voi non ci credete hai visto ogni ogni mese cambiare la batteria poi fosse un bello orologio che dici gliela cambio volentieri anche brutto e gli tocca cambiare la batteria mamma mia ecco adesso andiamo a riprendere quello che sono i discorsi velocissimo della famiglia che c'era mio nonno che si dilettava ai tempi già qualcosina vera e lui questo è uno di quei reperti che utilizzo che funziona ancora benissimo è un orologio svizzero di un marchio svizzero che sinceramente qualcosina ho trovato ma non è sicuramente un pezzo pregiato ma ha una precisione veramente ammirevole perché fa piacere se sgarra sieno di un minuto in 15 giorni è tanto quell'orologio quindi notevole per il due secondi al giorno lo usava mio padre quando doveva fare quando molti anni fa faceva dei lavori di manovalanza quindi probabilmente ha anche subito dei colpi anzi no ho sbagliato due minuti perché fate questi calcoli astrusi non mi dite lo scarto giornaliero ha detto un minuto ogni 15 giorni quindi 60 diviso 15 4 secondi al giorno sempre appartenuto a mio nonno e poi forse utilizzato ma non credo da mio padre questo longin che lo rapito molto bello è un 36 molto piatto è un classico si vedono adesso non so se si vedono le fioriture naturali del tempo diciamo che questo già lo usavo ai tempi della scuola quindi anche qua andiamo indietro di 30 anni fa poi probabilmente non avendo mai fatto una revisione adesso subisce qualche ritardo quindi dovrebbe essere sistemato fondamentalmente avevano usato senza lubrificazione probabilmente ha portato il colpo l'unico dubbio lì non è marchiato ma forse non lo era neanche all'inizio comunque no quadrante non era prima degli anni 50 dalla metà degli anni 50 non erano marchiate i longini però l'ho vista veramente opaca poi insomma se te 30 anni che ce l'hai e il nonno e bla 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 è stato sempre in famiglia dovresti essere in grado di ricostruire un attimo il percorso storico di questo orologio se qualcuno gli ha fatto delle cose sarebbe anche interessante vabbè però non so le corone fino agli anni 50 a metà non erano marchiate però lì la vedo tutta bella opacona però non so molto bello piatto largo io non conosco il nome che cosa ho cambiato i cinturini vabbè trovo un cinturino un cinturino molto adeguato adeguato elegante elegante se vogliamo va bene dai un simpatico e proseguiamo con il pezzo che mi fa ricordare mio papà mio papà non c'è più l'ho appena fatto sistemare questo orologio ho fatto è un è uno zenith degli anni 70 un 28 800 autosport è alternanza referenza del quadrante blu sono le alternanze completamento originale mi ha costato circa 500 euro la revisione però questo è il valore affettice io ho quando ero in braccio mio padre da piccolino lo vedevo con questo orologio quindi per me è grande soddisfazione poterlo utilizzare ancora se su questo non c'è se non ti non ti dico niente se immaginarsi di vedere la fotografia una fotografia no dall'album di famiglia del del tuo padre con te in braccio quell'orologio è qualcosa di unico che che ha un grande senso però 500 euro per una revisione spero tu l'abbiamo andato nell'assistenza ufficiale zenith dubito 500 euro da un orologio indipendente di quelli di paese la vedo costosa comunque non so poi 28800 sul quadrante sono le alternanze orarie non è il modello che si chiama modello autosport sotto c'è scritto 28800 sono le alternanze orarie che è considerabile già come alta frequenza insomma e nello stesso periodo mio padre comprò anche questo simile da mia madre sempre uno zenith una versione automatica similare respiretto colore ma non della stessa serie questo questo non funziona questo sarebbe da revisionare completamente però aspetto perché la mia compagna non gliene può fregare di meno andava a spendere un altro 500 euro adesso vediamo insomma 500 comunque ci tengo valore affettivo notevole eccolo sì sono passato a questo ma no adesso ti faccio vedere prima una cosa che ha vabbè già che c'eri ormai ma dai sempre perché mio padre aveva qualche orologio interessante questo praticamente è sempre stato utilizzato solo ed esclusivamente per delle cerimonie fondamentalmente era l'orologio ufficiale da cerimonie della domenica infatti prossimamente se deciderò di andare a nozze questo sarà sicuramente l'orologio bello che userò magari ecco questo ha un bracciale bellissimo eh lo vedo però magari da usare sarebbe meglio avere un cinturino ci sta eccolo questo un orologio un un citizen subacqueo della della serie promaster della serie acqua drive come acqua drive per l'estate acqua drive e poi vabbè insomma poi c'è lui top il mio regalo dei miei 50 anni che mi sono voluto fare che lo trovo lo trovo io quando solo me lo guardo me lo tocco io ce l'ho quasi sempre praticamente ce l'ho sempre su al polso d'estate magari un po' meno ma lo utilizzo sempre è sempre lui quello che fa che la fa da padrone eh ecco ti ringrazio eh prego e questo qua ti ho voluto presentare oh basta finito strano amico strano che insomma va bene dai il de giastellino con la lunetta zigrinata in oro bianco è tanta roba però col bracciale giubilè sarebbe stato giubilè sarebbe stato meglio no secondo a parer mio piuttosto che l'oyster probabilmente ti piace l'abbinamento oyster e con gira zigrinata ci sta però io preferisco l'altra versione poi il nostro simpatico però citizen acqua drive acqua drive è una cos'è è una è una nuova famiglia che si è inventato perché c'è ecco drive e poi c'è promaster acqua drive vabbè è l'emozione è l'emozione che ci frega dai comunque tutti i belli orologi anche quello lì l'omeghino in oro tanta roba col bracciale in oro mi sembra di aver capito che è in oro anche il bracciale non un placato e io non sarei anche col bracciale in oro vai tranquillo che però giustamente come dici te con un cinturino di pelle coccodrillo marrone secondo me farebbe proprio la figura del dress watch da matrimonio bravo vatti a sposare anche te così poi dopo ti tocca trovare anche l'orologio per il divorzio va bene prossimo video ciao davide ciao alessio ciao alessio buone feste buone feste ho fatto con la carrellata dei miei orologi il primo automatico che ho acquistato il classico SKX bravo lo utilizzo col bracciale in gomma vulcanizzata bracciale ho anche il suo giubilè però lo preferisco lo sento più suo con questa in questa modalità modalità è un cinturino però questo è il mio primo acquisto non è il primo orologio col quale sono partito con la collezione ma alcuni li ho già venduti bravo ho acquistato in seguito anche questo braille è bello mi piace nulla di che mi piaceva esteticamente insomma comunque come entry level per non avere sempre il classico 6 o 5 caruccio si avvolge bene anche il bracciale è molto comodo molto morbido però insomma lascia il tempo che trova si lascia il tempo che trova però questo qua è moderno cioè attualmente è ancora in vendita e a volte si trovano le offerte a 90 euro cioè è un bello orologino per costare 90 euro secondo me è una bella estetica mi sono appassionato molto ai vintage sono partito insomma da un lascito di mio nonno longin 1268z si ma ci sono delle parti chiaramente sostituite con il tempo insomma è ancora in ottime condizioni perché la corona così dorata in una cassa acciaio non si è mai vista in quei tempi lì alla longina poi così a cappello di prete secondo me nemmeno la cassa è la sua ora non voglio dire c'è qualcosa che non va la cassa così tondeggiante in un 1268z non ho mai mica boh vista mi sembra strano sembra un po' una crocchione eh mi sembra un po' una crocchione diciamo così condizioni cammina tiene discretamente il tempo quindi non ci non ci perderei ulteriore tempo anche se è davvero un bell'orologio si però boh poi peccato mortale mh ho ricevuto in dono questo omega e sarà un se non ricordo male un 268 un 235 buh non ricordo meglio dire non dire stronzate 35 mm e il quadrante è stato riverniciato sono stati riapplicati insomma gli indici originali però insomma ha perso molto del suo valore la corona è loggata anche la fibietta quindi peccato poteva essere molto molto migliore ma ora io mi domandano che è che è quello orologiaio quadrantista o che dir si voglia estroso no che si si mette lì e rivernicia un omega vintage un quadrante di un omega vintage di verde poi dopo ci sta anche a perdere il tempo a rimettere tutti gli indicini sopra clink 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 il logo la scritta omega le lancette ora si ora si che è così verde è un gran bello orologio ma come minchia ragionate ma perché a meno che non sia stato il proprietario anche il proprietario allora è da mettere dentro cioè da regare cioè si fa già ristamparli o riverniciarli di bianco è da galera di verde poi ho anche un roamer non l'ho mai aperto onestamente per vedere il movimento che lo anima ma tant'è che non è proprio necessario saperlo su questi orologi no ma a volte se uno non lo vuole aprire basta che fa una ricerca anche per immagini cioè ci arrivi prima o poi a vedere un orologio uguale al tuo con un minimo di ricerca si arriva a capire che calibro c'è dentro poi non sei sicuro al 100% che anche il tuo abbia quello ma un'idea te la sei fatta no magari vedi che è qualcosa di particolare allora ti spinge ad aprirlo di più con più vuole insomma aprirlo ho preso anche un tisso stylist questo mi sa che è al 7,8,2,1 movimento sempre a carica manuale bracciale 4 mm ho sostituito il cinturino con un bracciale sempre tisso cercando di mantenere uno stile dell'epoca sta male forse ho insomma fatto un po' d'accrocchi però insomma nella cassa l'orologio è originale e anche nel movimento questo qua sta così bene con un cinturino con quelle anse così strettine lunghe queste zampette che escono fuori gli metti un bracciale d'acciaio così con quel design lì staccato dalla cassa ammazzi un bel cinturino di quelli vintage belli sottili su via dopodiché ho trovato un fondo di magazzino questo certina nuovissimo anche con il bracciale originale cinturino insomma io l'ho utilizzato parecchio quindi ha perso il suo splendore però meglio viverli è veramente un orologio elegante bello col quadrante soleil credo che tra i vintage che ho sia quello sicuramente di miglior fattura però poi diciamo sono andato un po' avanti con il tempo e ho preso questo Kaki Erase 38 mm lo anima il classico movimento H10 fondello a vista era ammarchiato Red Bull insomma carino sì c'è tra niente con i vintage insomma divertente con questi indici e sfere arancioni e su sfondo nero molto belleggibile quindi non dirò fa il suo bravo sempre per rimanere sulla stessa base di movimento ho preso questo Seastar 43 mm con Powermatic 80 può sembrare eccessivo anche io un polso da 17 magari è importante come cassa però sostanzialmente un diver ci sta mi sta bene al polso mi piace quindi va bene così va bene così è bello si sta è un bel orlogio e poi i miei due pezzi migliori vai sorprendici su questo Tudor Black Bay 36 mm so che è in genere è già Tudor ti fa storcere un po' no no dai la combinazione lunetta liscia bracciale giubile però devo dire 36 mm soleiless è fatto veramente bene poi hanno questo qua è un orologio che mi piace mi piace anche tanto cioè ha senso di esistere mi piace ripeto quando Tudor fa delle cose che si discostano un pochino dal solito non voglio dire le solite cose come questo qua ha la sua personalità il Black Bay del 36 potrebbe essere veramente uno di quegli orologi colonna portante come il Tudor Royal come il Pelagos o Pelagos che dir si voglia come anche quello che avevo io il Tudor 1926 nella sua semplicità nella sua banalità è un signor orologio non mi piace quando va un pochino a scimmiottare mamma Rolex con il GMT bicolore con quello che sembra l'Explorer così lì non mi piace tanto tutto poi per il resto sono un ottimo orologio fatti benissimo costicchiano anche ma sono fatti bene tanta roba mi piace magari non l'avrei preso col quadrante color champagne per brindare un ingondro però magari un altro colore finalmente il calibro di manifattura è l'MT5400 se non ricordo male diciamo che ha dei caratteri suoi distintivi almeno io li riscontro o mi illudo di riscontrarli non lo so comunque mi piace veramente tanto mi piaceva la combinazione di tutti gli elementi la dimensione era insomma pure lo spessore che diciamo è più sottile rispetto al classico stile Tudor ho fatto questa pazzia bravo però un orologio deve piacere prima prima di tutto riscontrava i miei favori hai fatto bene è un bel orologio minchia e infine andrei con l'orologio che mi ha più sorpreso perché l'ho preso senza pretese e invece veramente stupendo ha una leggibilità incredibile non pensavo che da qualsiasi angolazione si guardasse avesse la stessa leggibilità mi piace la zigrinatura bronzo e il bracciale anche con i rivetti sottilissimo e sfinato è veramente un orologio sorprendente in in tutte le sue parti mi piace anche a me termino qui ho qualche altro orologio però diciamo l'ho tralasciato magari un giorno mi riservo di farti un altro video mi onorerai della gentilezza di pubblicarlo ma se ti ringrazio grazie a te un saluto una piccola un tuo piccolo parere sul tutor lo ho detto mia moglie mi chiedeva insistentemente ma un giorno se lo vorrai rivendere visto quanto l'hai pagato lo potremo monetizzare al prezzo almeno per il quale hai speso cioè la cifra spesa la rientreremo e sostanzialmente io ho detto che non me ne sbatte però l'ho preso perché mi piaceva non per monetizzare però un tuo parere una tua previsione sul futuro ciao grazie un abbraccio ma come previsione sul futuro ora mi collego con il mago Otelma e la sua palla di vetro così ci dice nel 2072 quali saranno gli orologi in voga in quel momento non si sa non vuol dire niente quello che deve consolarti tra virgolette è che un orologio è pur sempre un capitale parzialmente a disposizione nel senso che hai speso x il listino negli anni aumenterà quando lo andrai a rivendere la cifra la cifra a cui lo rivenderai sarà molto più vicina a x di quanto è ora hai capito quindi quello che voglio dire è che non sono tutti soldi persi se te un orologio l'hai pagato 5.000 e poi lo rivendi a 4 sembra una sconfitta gigantesca perché non ci ho speculato sopra come si fa con i rolex ma hai un orologio che ti sei goduto che ti sei divertito per 5 6 7 anni e hai sempre un capitale residuo di 4.000 euro che in caso di bisogno ce li hai o in caso di voler comprare qualcos'altro 4 più 3 ci pigli qualcos'altro è così che devi ragionare che non sono tutti buttati via io ragiono così anch'io con con il constellation lo pagai 5 3 e praticamente l'ho rivenduto a 4 e qualcosa quindi niente non è che ci si specula sopra detto questo poi gli orologi tutti belli belli assai cioè ripeto il 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 tudor lì mi piace un casino un bello orologio l'avrei scelto con un quadrato differente l'oris poi nemmeno dirlo è l'orologio il driver 65 che ha più anzianità nella mia collezione c'è una un'anzianità di servizio che praticamente è l'orologio il mio orologio quello lì perché è quello che ho da più tempo e non mi ha mai balzato l'idea di venderlo e non ho intenzione di venderlo quindi mettiamola così boh mi sembra di aver detto tutto beh gli orologi si è promosso aspettiamo la piccola parte che manca ma il video lo pubblichiamo ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love